Buongiorno, buongiorno e buon 30 novembre, buon sabato 30 novembre a tutti, ultimo giorno dell'anno, ma soprattutto buon onomastico a tutti coloro che si chiamano Andrea, oggi è Sant'Andrea. Il calcio è veramente meraviglioso, il calcio è meraviglioso. Quando si avvicina la partita si incominciano a dimenticare le malinconie della classifica, si incomincia a sperare che il Milan torni a racconquistare, pur in un campo complicato come Parma, questi benedetti tre punti incominci a raccogliere e far salire la classifica, un po' ripeto malinconica, e riguardo alla malinconia, quando ci si allontana da questa metà settimana dove il Milan non è impegnato e sono impegnate le altre squadre e incomincia a tornare la voglia, la voglia di partire per Parma, domani alle dieci e mezzo parto per Parma, mangio purtroppo, mangio solo una pasta in bianco, non è che si può anche se c'è un culatello che ti aspetti, tortellini d'erbetta, ma bisogna star leggeri prima della partita dei ragazzi, come se fossi un giocatore, e poi credo, credo, sotto la pioggia, Parma-Milan. Ho il prurito al naso, ho delle bollicine al naso perché Pioli, lo vedremo oggi quando sentiremo la conferenza stampa e cercheremo di carpire la formazione, oppure la sapremo magari in tarda serata, magari dopo l'arrivo a Parma dei giocatori o prima della partenza del pool, ma beh, ho le bollicine nel naso, una parita Petian perché è una formazione che, se è quella che io penso, mi piace tanto. Ho auspicato in settimana che potessero giocare insieme Buonaventura e Cialanoglu e probabilmente sarà così, pur con le ipotesi del caso, con le cautele, ecco la parola giusta, le cautele del caso, non ipotizzo e non arzardo formazioni, ma Buonaventura e Cialanoglu che mi piacciono perché sì, uno giocherà più avanti, poi scenderà dietro, andrà l'altro e ricorda un po' quel Milan meraviglioso che Pippo Inzaghi condusse alla vittoria con Menez, Buonaventura e Honda, grande vittoria. Credo proprio l'ultima vittoria a Parma col Milan di Inzaghi e Buonaventura segnò il suo primo gol, il suo primo gol in maglia rosso-nera proprio a Parma, come Buonaventura ha il suo, diciamo la sua vittima preferita, proprio con il Napoli, ha segnato l'ultima vittoria del Milan e firmata da Inzaghi, scusate, nel Milan di Inzaghi proprio da Buonaventura, il 2-0 sul Napoli e sempre il Milan di Inzaghi, nel Milan di Inzaghi Buonaventura segnò il suo primo gol a Parma e questa idea di Buonaventura e Ciananoglu insieme mi fa ben sperare, poi magari l'illusione è dolce per sua natura e magari sarò smentito, ma Buonaventura e Ciananoglu domani insieme mi piacciono tanto, mi piacciono tanto, davanti giocherà Piontek, ci sarà Suso, Piontek magari potrà beneficiare di Buonaventura e Ciananoglu, dovrebbe esserci Benasser e dicono dubbio Krunic che sì, io credo che alla fine giocherà ancora Krunic. Dunque Buonaventura, giocatore fondamentale, Ciananoglu che è in grandi condizioni di forma, fermato dalla squalifica e io penso proprio che saranno loro, sarebbe una delusione se Milan non giocasse una grande partita con Buonaventura e Ciananoglu, poi ci risentiamo a fine partita domani, ci risentiamo poi nel corso di tutti gli altri collegamenti, però Buonaventura e Ciananoglu là è tanta tanta roba, io spero proprio che non mi deludano e che questo Milan venga proprio trascinato da due giocatori eclettici, determinati nel tiro, continui nelle giocate, grande classe, immagino già dei duetti, dei doppel pass, delle canzoni come fossero dei Troubadour della Languedoc o della Languedoil, Buonaventura e Ciananoglu. Ne trarranno beneficio Suso, ne trarrà beneficio speriamo anche Piontek che esca da questo suo pallore ormai di settimane e di mesi, Buonaventura e Ciananoglu, tanta roba e a me sento, mi sembra che ci siano delle bollicine nel naso, mi raccomando che siano bollicine piacevoli, Buonaventura e Ciananoglu, Jack di Cuoli e Cialda Croccante, si beve con le bollicine e si gusta la Cialda Croccante di Ciananoglu, vediamo, ma oggi sentiremo Pioli e capiremo se questa mia speranza poi sarà una realtà. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Call of di Call of gold. Grazie.